Ciao a tutti, io sono Cree e oggi vi studierò come ottenere la decorazione l'orologio del signor Klaus, che sarà disponibile all'interno del gioco solo per un tempo limitato. Ottenerla è molto semplice. Basta aprire questa tendina e aprire le impostazioni, poi cliccare su questa icona a forma di regalo e inserire questo codice. Detto questo vi basterà cliccare su riscatta e il gioco è fatto. Questo codice è disponibile sia sulla versione mobile che su quella di Steam, ma solo per un periodo delimitato. Per l'esattezza fino al 27 dicembre alle 11.59 del pomeriggio PST o più semplicemente per chi abita in Italia come me fino al 28 dicembre alle 8.59 del mattino. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate mi piace, iscrivetevi e date un'occhiata anche al mio canale. Io vi saluto, ciao! Grazie! 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 Grazie!